Quanto piacere ci vediamo, forse no, ma saliamo qua. Allora, facciamo rock'n'roll. Cosa vogliamo fare? Un roll over Beethoven? Tra l'altro come esce la chitarra? Si sente? Tutto a posto, i suoni... Il nostro fonico fantasma... E' troppo alto, no? Spacca? Spacca, spacca, certo. Ma è la chitarra, non è la chitarrista. Questo è Roll Over Beethoven di Chuck Berry, il primo pezzo punk della storia. La chitarra, non è la chitarra, non è la chitarra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.